Guarda che te c'è fatto, la fresella è proprio napolitanamente, come si faceva tanto tempo a fare, non mi fanno male, ora ti faccio un consolato, il favorito è un consolato. Zia Teresa, buongiorno. Sì, Sampadore. Facci tu mangiare qualcosa, solo qui, vi voglio bene. Stai un'altra, io ti faccio sempre mangiare, però stai un'altra faccio una cosa fresca perché fa troppo capri, stai un'altra faccio una bella fresella, napolitanamente. Fresella napoletana? Sì, proprio napolitanamente, noi ci siamo sempre mangiati, sono stati dei fumaroli, piccolini, guarda, mi sono bello, guarda, poi mettiamo aglio, capo tutti questi non fanno più, hai capito? Oh, sbiterfani. No, mettiamo maestro, questa roba che ho, queste cose le mettiamo. Noi la facciamo napoletana vera. La cimavera fresella, ecco qua, una bella capuzia d'alaglio. Quindi con l'aglio andiamo a gestare i pomodorini. I pomodorini. E dammi un po' che sapore, che dammi? L'aglio è un armadolo, guarda. L'aglio è un'aglio che ho usato, ma lo sai che è Sant'Antonio con l'aglio fresca? Guarda cosa stai già parlando, va tu? E io vengo a scuola qui. Vengo a scuola, la scuola di cucina. Vengo a sentire cosa mi dica. Tonno. Tonno? Ecco qua. Tonno rio mare. Rio mare, vabbè, poi si può usare qualsiasi tonno. Sì, credo che uno lo mette, delle olive, un po' di sale, origano, e per finire dopo mettiamo delle alici salate. Alla fine ne mettiamo? Alla fine sopra la bella frasera. Questo è? Olio extravergine. Olio extravergine. E faccio un po' di saporire tutto insieme. Andiamo a girare tutto insieme. Sì, faccio un po' di sapore, io mettiamo un coppietto setto. E' una cosa molto veloce. Molto bella, molto fresca. Mamma, il lavoro è ormai venuto. Ormai. Ormai, e mi mangia roba fresca. Ci sta roba cucinata, però ogni tanto ci vuole, ci vuole, ci vuole mangiare una cosa fresca. Ma prendiamo due frasera e ci facciamo una a te e una a me. Teresa? Ecco qua, abbagniamo poche due frasera. Bagniamo le frasera, sì. Perché altrimenti sono tosti. Eh sì. Le dobbiamo fare ammorbidire. E' una cosa felice, non è vero. Ecco qua. Facciamo scolto l'acqua. Tutto questo bello zucca. Tutto questo è tutto che è in coppia. Facciamo un certo nucio. Tutto così a voi. Io e ti. Una cosa veloce, semplice, fresca e più sostanziosa perché ci sono le proteine del tonno, i grassi buoni delle olive, i pomodori, l'olio extravergine d'oliva, tutti ingredienti genuini. Mettiamo una bella riscaldata in coppia. Ah, dimenticavamo le alici. Ci vuole, ci vuole. Poi ti faccio far mangiare veramente, eh? Ecco qua. Guarda che ti faccio fatto. La frasera è proprio una britanamento. Come si faceva tanto tempo a fare. Noi mi fanno male. La faccio consulata. Fa fuori, capo consulata. Allora. Grazie.